Ciao da Avsim, nuovo appuntamento con Serie A Stats, le statistiche della Serie A con il riempimento delle caselle VOT per quanto riguardava la ventunesima giornata, abbiamo tolto gli asterischi, quindi possiamo fare una breve carrellata che riguarda in particolare i tiri, i tiri in porta, gli expected goals e la conversione tiri in porta su tiri delle venti squadre di Serie A. in queste 26 giornate finite e concluse, una carrellata quindi esaustiva, senza carenze di dati, senza più mancanze e allora andiamo a fare rapidamente con i dati che poi possono sviluppare tante considerazioni da parte vostra, quindi spero che siano comunque dei video sempre utili, interessanti, andando anche per zoom di determinate tematiche, ho già parlato comunque dei tiri, ho già fatto un video di qualche settimana fa con questi dati, quindi ci aggiorniamo, vediamo qual è stata intanto l'evoluzione, potete recuperare tutti i video precedenti e i prossimi per chi viene dal futuro nella playlist, nel podcast Serie A Stats, con la nuova divisa se vogliamo di questa rubrica che è questa mia felpa, Tocco Felpato, che potete acquistare su toccofelpato.shop, c'è il link nella descrizione, il mio store con la mia collezione, calcio giocato, è proprio quello tra l'altro che ricorda proprio il campo da calcio, insomma questo verde quasi de prato, il bianco che sono le strisce, si poteva anche fare il contrario, ma la trovate comunque in tanti altri colori, molto belli, che vi possono piacere, che è con tante altre grafiche che richiamano l'emozione del calcio giocato, del gioco creato, del gol segnato su toccofelpato, e questa non è una riva casuale. Detto questo, andiamo allora a vedere tramite la tabella che come sempre aggiorno direttamente, andiamo a vedere i dati, ma grafiche anche, con i dati presi, con le statistiche prese da Wisecout, come stanno andando le 20 squadre di Serie A dal punto di vista, come abbiamo detto, tiri nello specchio, XG, e poi abbiamo anche la conversione, la conversione dei tiri, quindi l'efficacia, sostanzialmente la bravura nell'andare a fare tiri in porta nell'ambito dei tentativi totali, con l'andamento di queste ultime giornate, comprese i recuperi della ventunesima. Guardiamo allora, come state già vedendo, i tiri totali effettuati, e andiamo a vedere un po' l'Atalanta, che ha questa media di 13 tiri totali a partita. Un andamento oscillante, che comunque troviamo in tante squadre, tra l'altro il recupero, vedete, della ventunesima giornata è stato per la seconda volta il picco negativo, quindi contro l'Inter, solo sei tiri totali dell'Atalanta in questa stagione, dopo la dodicesima giornata, quindi in realtà 21 la dovremmo mettere al posto di 27, come cronologicamente, e quindi per un discorso di tendenza vediamo che l'Atalanta è in contrazione, è in contrazione dopo aver avuto quindi 20, 14, 15, 15 e 22 tiri totali, quindi ben 5 giornate consecutive con tiri totali sopra la media, sopra la propria media, quindi con un innalzamento anche della media, dopo che aveva avuto invece un lento e progressivo peggioramento tra la diciassettesima e la diciannovesima giornata, poi appunto ci sarebbe anche la ventunesima che spostiamo però in avanti, un piccolo peggioramento. Quindi questa è l'Atalanta, proseguendo abbiamo invece il Bologna che da diverse giornate sta rendendo più corposa la sua capacità di andare al tiro, quindi il numero di tiri totali, tante volte sopra media innalzando la media, piccola regressione, piccolo calo in queste ultime due giornate, ma senza scendere troppo al di sotto, quindi un Bologna che è migliorato tanto nel corso della stagione. Guardando il Cagliari che sta comunque ottenendo punti, anche qui abbiamo un andamento oscillante con questa tendenza ad avere dei rialzi dopo dei cali negativi, per cui siamo forse alla terza volta di questo andamento, diciamo così, scalare, tra sedicesima e diciannovesima, tra ventesima e ventiquattresima, con il picco in mezzo della ventudesima giornata con ben 20 tiri, secondo dato migliore del Cagliari in questa stagione, adesso 5-7, quindi tutto depone per un Cagliari che farà più di 7 tiri totali, almeno 8, la prossima giornata, la ventisettesima. Abbiamo poi l'Empoli, che pure sta avendo un buon momento, a parte la diciottesima e la venticinquesima giornata, un buon momento con una media interessante, vicina anche alla media della Serie A in questo momento, che è di 11,7 circa tiri totali a partita, quindi un Empoli che sta migliorando anche con Nicola in particolare, ricordiamo tre allenatori, questa è una grafica che riguarda tre allenatori dell'Empoli in questa stagione, in quest'ultimo periodo è un Empoli che riesce a tirare di più. Per quanto riguarda la Fiorentina è evidente il miglioramento e soprattutto uno stabilizzarsi, meno oscillante delle ultime 7-8 giornate. Se vogliamo iniziare dalla diciassettesima, dopo il crollo della sedicesima giornata, quando tra l'altro anche in questo caso vediamo la ventunesima giornata, che cronologicamente in realtà si sposta al posto della 27, diciamo così, quindi non è scalare in maniera così precisa, anzi al posto della ventisesima, perché il recupero della Fiorentina è stato la settimana scorsa e quindi abbiamo una Fiorentina che sta comunque migliorando nel dato sui tiri dopo il crollo della sedicesima giornata in cui ha avuto il picco negativo di questa stagione fino a questo momento. Il Frosinone ha avuto l'Expluat la venticinquesima giornata con ben 22 tiri totali, non riesce però a raccogliere in termini di punti, perché non riesce a raccogliere innanzitutto in termini di gol, comunque l'andamento del Frosinone è abbastanza consolidato, quindi tutto sommato lineare con una media comunque interessante. Il Genoa invece sta migliorando tanto, Gilardino sta migliorando il Genoa in tante cose, anche nei tiri totali, quantomeno pur in maniera oscillante, nella capacità di fare tanti tiri in una singola partita. Poi alternando questo dato con dati negativi come quello della diciannovesima giornata o comunque della ventunesima e venticinquesima con solo i cinque tiri totali, però è un Genoa che sta aumentando la cilindrata. Per quanto riguarda l'Ellas Verona, troviamo anche qui una situazione maggiormente stabile nell'ultima decina di giornate, nell'ultima decina di partite, con una media che sta migliorando, anche una media che si sta un pochino alzando, perché quantomeno i dati negativi sono più alti, cioè si sono alzate le minime, diciamo così, perché vediamo che fino alla quindicesima giornata si facevano anche solo tre o quattro tiri totali in una singola partita. Andiamo poi all'Inter, quindi cominciamo con qualche altra big, dopo abbiamo anche la Juventus, l'Inter che ha avuto incredibilmente alla ventiduesima giornata, la ventunesima è stata completata ieri, quindi il dato di 14 della partita di ieri, 28 febbraio in casa contro l'Atalanta, 14 tiri totali, ha avuto però alla ventiduesima, quindi subito dopo la sosta per la Supercoppa, il dato peggiore di questa stagione, che però male non è otto tiri in una singola partita, che è guaglia il dato della tredicesima giornata. Per il resto direi che è un Inter che sta consolidando la sua capacità di fare tanti tiri a partita, questo 14 che ricorre spesso di recente è addirittura sotto la media di 15 tiri totali, che è sicuramente un dato molto importante. Vediamo poi la Juventus che sta crescendo nell'ultimo periodo, dopo un periodo abbastanza stabile, intorno alla propria media, che è al di sopra, come dicevamo, della media del campionato, anche in questo caso si sono alzate le minime, cioè meno di sei tiri nello specchio e comunque in realtà più spesso meno di nove, anzi sei tiri totali, più spesso meno di nove, la Juventus non riesce a fare, quindi comunque si sono alzate le minime, come dicevo, quindi un miglioramento in questo senso, ma non abbastanza ancora per alzare la media, per quanto le ultime giornate siano incoraggianti. Troviamo poi la Lazio che invece è in netta contrazione, una Lazio peggiorata gravemente nelle ultime giornate, solo una volta sopra media, cioè alla ventiquattresima giornata, anche in questo caso la ventunesima la ritroviamo scalata in avanti, cronologicamente, il recupero con il Torino, in cui ha fatto solo sei tiri, di cui quattro nello specchio, riuscendo a fare due gol, però è una Lazio in un trend sicuramente negativo, di peggioramento che persiste da una decina di partite. Il Lecce invece sta andando molto molto bene, sono tantissime giornate che il Lecce va veramente alla grande, per quanto riguarda i tiri totali, è una squadra che tira tanto, possiamo trovare l'inizio di questo trend positivo addirittura alla settima giornata, dopo un dato pessimo, che veramente le prime giornate sono incredibili, quasi in maniera armonica, si va dal massimo al minimo, con una regressione poi, sia nel dato massimo che nel dato minimo, mentre dalla settima giornata il Lecce non fa mai meno di otto tiri totali, che le ha fatte però solo due volte, molto più spesso nove, addirittura dieci e di più, quindi andando a dare grande consistenza alla propria media di tiri totali. Il Milan è sicuramente in crescita all'incirca, dalla quattordicesima giornata, tranne dodici diciannovesimi e ventiquattresimi giornate, comunque di tutto rispetto, abbandonati quindi i dati negativi di inizio stagione, è un Milan che riesce a fare anche tantissimi, veramente tantissimi tiri in una singola partita, parlando di tiri totali, anche andando ben al di sopra della propria media. Il Monza invece ha lasciato il periodo in cui faceva ogni tanto dei dati incredibili, come la sedicesima giornata o la quarta giornata, e addirittura abbiamo il dato peggiore della stagione, che è la metà del dato peggiore precedente, cioè da sei si passa a tre. Poi nelle ultimissime giornate, contando anche dalla ventunesima in realtà, tutto sommato bene, ma non benissimo, è un Monza che tira di meno. Il Napoli davvero molto oscillante, diciamo che possiamo individuare abbastanza bene il momento di stacco con García, grosso modo, poi con Mazzarri si è andati veramente alti e bassi, addirittura da 28 a 5 in due sole giornate, anche se no, no no, 28 a 5 no, perché 28, la ventunesima giornata è sempre quella di ieri, 28 quindi il record è con Calzona, però comunque da 5 a 23 e da 19 a 5 era un bel su e giù con Mazzarri, mentre adesso con Calzona abbiamo 9 e 28, perché 24 era l'ultimo dato di Mazzarri, 28 con il Sassuolo, record stagionale del Napoli, credo anche il dato più alto di una singola squadra in una singola partita di questo campionato, e quindi è presto per intravedere una tendenza con Calzona, però è un Napoli che sta a tirare tanto, la Roma tira molto di meno, per quanto riguarda la gestione dei Rossi, dunque grosso modo dovrebbe essere proprio dalla ventitreesima, quindi un dei Rossi che in quest'ultima giornata la Roma ha tirato poco, anche se ha giocato molto molto bene, però non è il dato sui tiri che è diciamo più significativo della cura dei Rossi, anche perché in questo senso non notiamo grosse differenze nella tendenza rispetto al periodo precedente di Mourinho, rispetto a Mourinho possiamo trovare tre blocchi, dalla prima alla nona giornata, dalla decima alla diciassettesima o alla sedicesima, e poi 17-22, quindi come tendenze diverse, quindi vedremo come proseguirà la Roma, ma sicuramente può alzare la media dei tiri totali. La Sardinitana è una squadra disastrata e disastrosa quest'anno, in cui è difficile individuare qualsivoglia tendenza con questi continui cambi di allenatore, certo è che quell'un tiro totale, che insomma è il minimo per non fare zero, è sicuramente molto preoccupante, anche se la giornata dopo ne ha fatte dieci, ma comunque il problema della Sardinitana non è solo i tiri totali. Il Sassuolo, che adesso, ecco, la ventunesima giornata, quindi Dionisi finisce alla ventisesima con 18 tiri, comunque il Sassuolo con Dionisi era stato capace di fare anche tanti tiri, avete visto 27 anche alla dodicesima giornata, esordisce Bigiga con solo quattro tiri totali contro il Napoli, troppo poco, ed è il dato peggiore della stagione, questo dice tanto, dice tanto il dato peggiore, e offre al Napoli il dato migliore della stagione, dice tanto sulla partita e forse sul cambio tardivo di allenatore, da parte della dirigenza del Sassuolo. Il Torino finalmente ha trovato corpo nella quantità di tiri a partita, dalla ventunesima giornata, anche se questa è stata recuperata, però comunque fa parte di questo blocco di tendenza, il Torino tira finalmente tanto, vedremo se abbandonerà definitivamente i dati negativi del periodo precedente, dati negativi che invece, cui invece sta ritornando un Udinese abbastanza oscillante nelle ultime partite, dopo aver avuto una linearità abbastanza interessante come quantità di tiri totali. Dopo i tiri totali andiamo a vedere invece i tiri in porta, tiri nello specchio, quindi tiri porta effettuati, ripartendo sempre dall'Atalanta, che appunto trova il picco negativo, eguagliando la dodicesima giornata, nella ventunesima di recupero con l'Inter, sempre la partita di ieri, un solo tiro nello specchio, qui parliamo di tiri nello specchio, anche se nell'ultimo periodo, nell'ultimo periodo comunque l'Atalanta sta tirando tanto, anche tantissimo nello specchio, perché 11 tiri nello specchio in una singola partita sono veramente tantissimi, però è una squadra piuttosto oscillante. Molto più lineare il Bologna, soprattutto nell'ultimo periodo, anche se con dati meno buoni, quindi con numeri inferiori, però sempre almeno tre tiri nello specchio, che comunque non è male, ma si potrebbe provare ad aumentare la media. Il Cagliari tira sicuramente meno, ha avuto dei picchi importanti, cui dare seguito, sarebbe più importante forse per il Cagliari alzarsi verso quattro tiri nello specchio, stabilmente, piuttosto che fare una volta nove, una volta due o tre. L'Empoli nell'ultimo periodo sta tirando un po' di più e sta provando ad alzare la media. Anche in questo caso potremmo parlare della cura Nicola. Non ricordo in quale giornata sia subentrato, però comunque queste ultime 4-5 sono sicuramente di sua matrice ed è interessante, perché davvero prima l'Empoli è stata la prima squadra della Serie A a fare zero tiri nello specchio in una singola partita la terza giornata e poi anche diverse volte uno solo. La Fiorentina, dopo un periodo negativo tra la sedicesima e la ventiduesima giornata, anche se pure in questo caso la ventunesima la dobbiamo posticipare, è forse in ripresa. Forse, forse in ripresa, cercando di alzare la media. La Fiorentina è sicuramente una squadra che può provare a fare cinque tiri nello specchio in media a partita. Il Frosinone nell'ultimo periodo molto bene, come abbiamo visto anche per i tiri totali, con una certa linearità, anche con una tendenza lineare, ma ovviamente deve raccogliere di più a livello di gol. Dopo vediamo anche gli XG. Il Genoa, nell'ultimo periodo, come dicevo, Girardino sta migliorando tanto, almeno quattro tiri nello specchio con una media che sta crescendo e questo è davvero incoraggiante per le speranze e salvezza del Genoa. Il Verona invece va troppo su e giù e non sembra ancora abbandonato il periodo in cui faceva veramente pochissimi tiri nello specchio, pur oscillando tanto. Questi nove tiri della 25esima giornata incoraggiano poco perché la giornata precedente ce n'era stato uno e quella prima ancora due e poi alla 26esima adesso tre. E poi appunto l'Inter, dato negativo alla 23esima giornata e comunque dopo la Supercoppa, come vedete, cioè 22-23, un Inter in contrazione, probabilmente anche fisiologica, un solo tiro nello specchio alla 23esima, poi adesso sembra un Inter in ripresa su livelli della parte precedente di stagione. era comunque il 21, lo dobbiamo mettere al posto di 27, quindi questi sette tiri nello specchio sono contro l'Atalanta nella partita di ieri nel recupero e quindi già una tendenza più interessante, però era in crescita, era un Inter in crescita prima della sosta per la Supercoppa. Guardando i tiri in porta della Juventus invece, andamento in crescita dalla 15esima alla 21esima, poi di nuovo un po' giù, comunque una media, non certo da squadra in vetta alla classifica. Questa non è una media, non è un andamento da squadra big, lo abbiamo visto anche in squadre poco fa, che lottano per non retrocedere o comunque sono a metà classifica. La Lazio ancora peggio, la Lazio ancora peggio ci sono state veramente partite orribili, cioè zero tiri nello specchio è stata la 22esima contro il Napoli, quello 0-0, poi addirittura non contenti, un tiro, un tiro, poi anche qui 21 è il recupero col Torino, però comunque solo sei tiri totali, ti dice veramente bene che su sei tiri ne fai quattro nello specchio, e fai due gol, ma ti dice veramente molto bene, Sarri deve lavorare tantissimo sulla rifinitura e la finalizzazione e dirlo adesso è abbastanza allarmante. Il Lecce stava andando benissimo tra la decima e la diciassettesima giornata, tra la diciottesima e questa ventisesima invece meno bene complessivamente tranne la ventiodesima e la ventitresima in cui sono riusciti a fare ben 6 e 8 tiri nello specchio. Da vedere nel proseguo comunque abbiamo visto che il Lecce tira tanto come tiri totali e la conversione che dopo vedremo meglio che è un po' deficitaria. Molto molto bene il Milan, è sempre stata la squadra di Pioli, una squadra che tira tanto, lo abbiamo visto per i tiri totali, lo confermiamo anche per i tiri nello specchio, da diverse giornate tranne la ventiduesima costantemente sopra media alzando la media e quindi è un Milan in ottima tendenza di recente. Il Monza sta tornando a salire ma il periodo buio tra la quattordicesima e la ventiquattresima giornata non è ancora sufficientemente lontano, Palladino deve evitare di ritornare a quei livelli lì e continuare a lavorare per migliorare la quantità dei tiri in porta a partita. Il Napoli appunto abbiamo detto dobbiamo guardare 21 che è 9 tiri nello specchio e 4 che è la ventisesima giornata quindi Calzona parte da 4 e poi arriva a 9 4 sono contro il Cagliari poi c'è stata precedentemente la partita col Barcellona che non prendiamo in esame presto per una tendenza però sicuramente si deve tenere questa media di 5 tiri in porta a partita e provare a salire. La Roma anche qui abbiamo detto che per quanto riguarda De Rossi è difficile già vedere una tendenza ma sicuramente De Rossi può e deve portare la Roma ben al di sopra di 4 tiri di media nello specchio come vedete siamo a meno di 4 e mezzo come si vede bene dal grafico è una Roma che può arrivare sicuramente verso i 5 per fine stagione obiettivo 5 tiri nello specchio di media la Salernitana anche qui per quanto riguarda i tiri totali e tiri in porta il discorso è uguale alla 25esima addirittura 0 tiri nello specchio una squadra povera di contenuti offensivi e non solo il Sassuolo stava tutto sommato andando benino nelle ultime giornate poi appunto la 21esima come abbiamo detto si presenta malissimo Bigiga con il recupero della 21esima contro il Napoli un solo tiri nello specchio a inizio stagione c'erano numeri incoraggianti il Torino di recente sta migliorando ma ha ancora alcuni momenti negativi però sicuramente le prime dieci giornate sono alle spalle come andamento c'è una tendenza a riuscire a fare anche più di 4-5 tiri nello specchio per singola partita l'Udinese in un momento fortemente negativo nelle ultime tre partite dopo un bel blocco interessante tra la 16esima e la 23esima e comunque ecco la fine la media dell'Udinese è simile a quella della Juventus o viceversa scendendo più in giù perché poi qui sotto ho l'inverso cioè tiri totali subiti o concessi e tiri in porta subiti o concessi andiamo a vedere gli expected goals e anche in questo caso come sempre partiamo dall'Atalanta in un buon momento un Atalanta in un buon momento di recente con dati veramente importanti a partire dalla 15esima giornata ad eccezione di pochi di pochi momenti però appunto 0-24 e adesso 0-24 è ieri la 21esima giornata è ieri contro l'Inter quindi un Atalanta che veniva da almeno 1-0-3 XG a partita da 10 giornate contro l'Inter si ferma a 0-24 e a nulla valgono le recriminazioni arbitrali onestamente un Atalanta che ha fatto veramente troppo troppo poco contro l'Inter e l'Inter che ha concesso troppo troppo cioè veramente pochissimo appunto all'Atalanta per il resto è un Atalanta formidabile dal punto di vista degli XG il Bologna è più lineare e ha una media tutto sommato bassa va detto l'XG medio del Bologna non è alto per la classifica del Bologna però di recente numeri davvero interessanti 1-85 2-18 2-05 2-66 anche 1-81 della 26esima giornata bisogna continuare così ed evitare e cercare di stare sempre di sopra di 1 ma anche di 1,5 il Cagliari di recente è crollato nonostante il 3-22 della 22esima giornata è riuscito a fare comunque 1-11 contro il Napoli alla 26esima giornata però era meglio quando tra l'ottava e la diciottesima giornata per una decina di giornate aveva avuto dei numeri più interessati più alti l'Empoli è invece in forte crescita torno a parlare cura Nicola che sta funzionando davvero numeri che lo confermano numeri davvero molto interessanti si è lasciata quella contrazione che si era vista fino alla diciottesima giornata la Fiorentina anche è in crescita globalmente complessivamente 1-31 anche questo lo dobbiamo mettere più avanti però alla 26esima giornata 4 XG quindi una bellissima Fiorentina il record tra l'altro di questa di questa stagione per una Fiorentina che ha anche concesso tanti XG in questa stagione in alcune partite il Frosinone buon XG per una squadra che deve salvarsi una media anche interessante però ci sono delle partite in cui fa troppo poco e comunque anche quando fa tanto magari segna ma non riesce assolutamente a vincere 0-42 è contro la Juventus pur avendo segnato due gol il Genoa anche in questo è in crescita molto bene deve alzare la media lo sta comunque facendo più che altro il problema dell'inizio della stagione non era tanto la media ma la quantità di volte che non si riusciva ad andare sopra media insomma cioè un'eccessiva linearità che dava anche segnali di sterilità comunque nonostante questo i punti li hanno fatti il Verona sta un pochino regredendo anche se le minime si sono alzate anche in questo caso rispetto all'inizio della stagione davvero drammatico del Verona però parliamo di un'ottima gestione quella Baroni che non è mai stato sostituito fin qui in questa stagione a differenza di altre piccole che hanno cambiato diversi allenatori perché il Verona riesce a fare un buon calcio ecco l'Inter l'Inter che appunto la ventiduesima come abbiamo detto si era un po' contratta dopo la dopo la Supercoppa 2.53 è il dato di ieri contro l'Atalanta alla ventunesima giornata recuperata e insomma media alta record stagionale con 4.52 la terza giornata che dovrebbe corrispondere se non sbaglio alla vittoria contro la Fiorentina e quindi un Inter invidiabile per dati XG nonostante questo appunto questo piccolo passaggio negativo dopo la Supercoppa che però è alle spalle la Juventus da tre giornate sopra media media interessante male alla ventiduesima la ventitreesima e comunque una buona tendenza tra la sedicesima nelle ultime dieci giornate tra 16 e 26 10 e 11 giornate prima troppo oscillante troppo altalenante vedremo il prosieguo la Lazio anche per quanto riguarda gli XG come giustamente i tiri è in intuitiva contrazione una Lazio che va veramente male da 6 o 7 partite veramente male da 6 o 7 partite dati inaccettabili il Lecce sta andando maluccio ultimamente come XG nonostante la ventiduesima troviamo abbastanza linearità anche per quanto riguarda i tiri in porta ovviamente i dati che si avvicinano tra di loro perché gli XG dipendono soprattutto dai tiri in porta però insomma tutto sommato c'è stato questo periodo centrale insomma dall'undicesima alla ventesima che Lecce era andato un po' meglio soprattutto per una certa stabilità nei dati qui torna ad essere oscillante però è anche vero che è riuscito alla ventidesima a dare il meglio di sé e a tirare fuori una capacità di creare XG davvero importante il Milan invece è in una tendenza davvero ottima ultimo dato negativo rilevabile non aggiornata per il resto davvero tutto molto bene magari servirebbe qualche volta di fare anche più di 3 XG magari 3 e mezzo però è una media sicuramente validissima il Monza sta tornando a crescere sono dati molto simili rispetto ai tiri come abbiamo visto prima quindi non aggiungo altro alle considerazioni già fatte anche per quanto riguarda il Napoli stessa cosa si passa dall'essere veramente oscillanti addirittura nello 0-0 con la Lazio è il record negativo di tutta la serie A 0-0-6 XG neanche James Bond e mentre contro il Sassuolo in questa grande vittoria con 6 gol 2-52 in questo inizio con Calzona la Roma anche quella di De Rossi si mantiene più o meno stabile anche rispetto all'ultima parte della gestione Murigno comunque in una tendenza di miglioramento e anche di diciamo di sostegno più che di innalzamento alla media che si era vista fino a quel momento anzi mi correggo il record negativo della serie A è 0-0-2 della Salernitana che aveva anche già fatto 0-0-3 davvero Salernitana incommentabile il Sassuolo stava forse crescendo poi 0-19 è il dato ancora di ieri contro il Napoli quindi poi bisognerà vedere però sono lontani i bei momenti del Sassuolo che abbiamo visto anche per quanto riguarda i tiri tra terza e sedicesima giornata poi abbiamo il Torino che sta dando maggior corpo agli XG così come ai tiri non scendendo più troppo in basso però comunque è una media anche qui inaccettabile troppo bassi questi XG per il Torino per fare abbastanza punti in regressione anche piuttosto preoccupante di recente l'Udinese chiudiamo questa carrellata inevitabilmente piuttosto lunga con saltando degli XG against il PPDA e la lunghezza media dei passaggi con il tasso di conversione dei tiri e quindi vediamo qui ovviamente c'è tanto tutte le squadre sono oscillanti su questo dato perché puoi essere una squadra che tira tanto o che tira poco ma puoi comunque avere ecco 78,57% di conversione o 16,67 per citare due dati che vedete dell'Atalanta diciamo che comunque è un'Atalanta che fa malissimo proprio contro l'Inter 21 per il resto stava andando molto bene anche come tasso di conversione che è comunque un dato molto importante perché ti avvicina al potenziale da gol cioè migliora il tasso di conversione meno tiri ti servono per segnare in teoria o quantomeno per tirare nello specchio il Bologna è piuttosto stabile e non benissimo non benissimo comunque sempre al di sotto anche del 40% bene o male infatti la media è quella il Cagliari invece sta migliorando tantissimo guardate il Cagliari sta migliorando tanto la conversione veramente tanto questo è un dato molto importante l'Empoli va su e giù però dati interessanti anche se la media è piuttosto bassa ma è figlia più che alto della prima parte di stagione la Fiorentina ha una conversione bassa ma questo è un problema proprio della squadra di Italiana cioè bassa per essere la Fiorentina cioè al di sotto del 40% anche con un dato veramente negativo subito dopo la Supercoppa 15 e 38% dato peggiore della stagione il Frosinone invece tira benissimo soprattutto di recente la media non è alta però per essere il Frosinone invece sì lo è ma di recente è veramente un grandissimo tasso di conversione segno che i punti arriveranno per il Frosinone i punti arriveranno devono continuare a giocare esattamente così perché tirano tanto tirano bene fanno XG e vinceranno anche le partite il Genoa addirittura ha avuto un 100% la ventunesima giornata da te che va fuori scala quasi e nell'ultimo periodo Girardino sta migliorando tanto anche questo Girardino sta lavorando veramente bene ma soprattutto sta lavorando il Verona è più oscillante e deve mantenersi sui livelli più stabili per avere maggiori garanzia di fare punti di fare gol e quindi punti l'Inter ha avuto abbiamo già detto un crollo 22-23 poi ieri è tornata al 50% e comunque impressionante la media non è alta perché è 37% però è impressionante la stabilità nella conversione dei tiri dell'Inter tranne le primissime giornate la Juventus è abbastanza stabile nelle ultime partite nelle ultime sue sette partite anche qui la media è anche più bassa la percentuale media è anche più bassa di quella dell'Inter figlia soprattutto delle prime giornate fino alla 13esima o 15esima dove ma anche 17 dove il tasso di conversione era veramente basso tranne alcune eccezioni la Lazio ecco perlomeno su questo sta sta avendo dei picchi di miglioramento cioè sta alzando le massime nelle ultime partite però comunque piuttosto male il Lecce è in un periodo negativo da questo punto di vista con poche eccezioni però un tasso di conversione medio interessante il Milan invece davvero corposo il tasso di conversione come vedete non c'è non c'è linearità non c'è correlazione vera tra la conversione dei tiri e la quantità ovviamente perché questa è una relazione e la quantità dei tiri per cui abbiamo visto un Milan che aveva una tendenza molto più ampia di recente nella quantità di tiri però abbiamo visto che come tasso di conversione è forse lì che il Milan perde punti è nel tasso di conversione quindi quello è un dato veramente importante perché tira tanto tira anche tanto nello specchio però come tasso di conversione il tasso di conversione magari penalizza per quello che è poi il risultato finale come gol e punteggio e punti conquistati il Monza che dire ha avuto un buon inizio di stagione increscendo poi in una fase negativa adesso addirittura 9% 10% poi alternato con 66% e 50% il Napoli anche qui dobbiamo sempre attualizzare Calzona comincia col 32-14% che è comunque sopra media diciamo che non benissimo il Napoli in questa stagione per la quantità di tiri anche non bene il tasso di conversione poteva essere sicuramente più alto proprio a livello di consistenza la Roma ultimamente sta migliorando ecco forse la cura dei Rossi più significativa che possiamo individuare è questa il miglioramento più significativo che troviamo in dei Rossi è questo il miglioramento del tasso di conversione dei tiri la Salernitana alla fine anche bene come tasso di conversione nei pochi tiri che ci sono il tasso di conversione non è malissimo soprattutto nell'ultimo periodo anche se adesso hanno cambiato allenatore il Sassuolo pure tutto sommato bene per essere il Sassuolo con una buona media evidentemente il problema è come si tira nello specchio non solo quante volte il Torino troppo oscillante con un periodo negativissimo secondo me tra ventesima e ventiquattresima giornata anche se la ventunesima anche in questo caso appartiene è successiva rispetto alla collocazione grafica in chiusura l'Udinese che come abbiamo visto sta peggiorando nei tiri sta peggiorando anche nel tasso di conversione il che rende l'Udinese potenzialmente troppo sterile questo è quanto per la carrellata lunga probabilmente anche carica comunque di dati ma spero come già dicevo utili e interessanti post ventiesesima giornata quando abbiamo riempito tutte quante le caselle con i recuperi della ventunesima abbiamo tolto gli asterischi grazie per la vostra attenzione fate di questi dati buon uso tutto quello che vi risulta più interessante per valutazioni approfondimenti e considerazioni se volete anche nei commenti condividete il video e invitate a seguire il podcast serie a stats su questo canale ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore grazie a tutti grazie a tutti